per partecipare a questa conferenza stampa dove annunciamo l'accordo tra Forza Italia e il Partito Liberale Italiano per agire insieme non soltanto in questa campagna elettorale ma anche nei prossimi mesi e nei prossimi anni Forza Italia è una grande forza eh liberale riformista garantista atlantista ed europeista il partito liberale eh oggi l'erede di quello che è stata uno dei pilastri della difesa della democrazia del nostro paese è stato uno dei pilastri del pentapartito cioè quell'insieme di forze eh di centro che hanno impedito al Partito Comunista di prendere il potere nel nostro paese che hanno tenuto l'Italia sempre schierata dalla parte eh dell'Occidente nella Nato dell'Europa quindi noi abbiamo raccolto come Forza Italia l'eredità eh culturale che è stata di personaggi come Inaudi, Balagodi, eh Lucifero, Biondi, eh Raffaele Costa. Adesso ci sono dei giovani rappresentanti di un partito che non vuole ammainare la bandiera del liberalismo poi sarà l'ora dirlo ma hanno trovato in Forza Italia l'interlocutore privilegiato per difendere quei valori. Infatti il documento che andremo a firmare è tutto basato sui valori eh la crescita economica, l'europeismo, eh la riduzione del debito pubblico che è un altro tema eh fondamentale in prospettiva noi dobbiamo lavorare per far sì che eh i nostri figli non abbiano ulteriori debiti nonostante le difficoltà che stiamo eh affrontando. Quindi eh ringrazio anche Maurizio Gasparri che è stato eh diciamo così l'interlocutore di Forza Italia con il Partito Liberale per l'eccellente lavoro eh che ha svolto e ringrazio gli amici del Partito Liberale per eh aver scelto di sostenerci in questa campagna elettorale di votare per Forza Italia ma soprattutto di aver deciso di lavorare con noi eh anche dopo le elezioni perché spesso che si accorre si fanno in campagna elettorale ma è importante invece che questi accordi continuino sappiamo bene che noi difendiamo i i valori del liberalismo eh siamo convinti sul fatto che la economia non debba essere eh quella socialista perché non ha prodotto alcun risultato favorevole ai cittadini crediamo in un'economia liberale che non deve essere quella dell'oltransismo neoliberista ma un sano liberalismo che poi si traduce nell'economia sociale di mercato perché lo Stato deve dare soltanto le regole e poi il mercato deve crescere grazie ad una sana competizione credo che questa sia la sintesi del liberalismo che è Forza Italia in carne che ha portato agli amici del PLI a concludere un accordo insieme a noi. Do subito a loro la parola in modo che ringrazio anche l'amico eh Paolo Guzzanti che è stato compagno di tante battaglie liberali anche con me anche in occasione delle elezioni europee ha sempre rappresentato anche lui nelle liste di Forza Italia l'anima più liberale l'anima del partito liberale lo ringrazio per quello grande opinionista lo vedete tutti i giorni in televisione quindi Paolo è diciamo un po' anche il garante di questo eh accordo che noi andiamo eh a siglare naturalmente con il consenso di Silvio Berlusconi che era informato di questo incontro che abbiamo stamattina. Prego. Grazie e grazie Presidente Tagliani io sono Roberto Sorscinelli sono il segretario nazionale del Partito Liberale Italiano e insieme a eh Francesco Pasquali che è il nostro presidente eh abbiamo eh deciso intrapreso una linea politica sicuramente che colloca il partito eh nell'area del centrodestra ehm e naturalmente abbiamo subito pensato di rivolgerci a quale interlocutore naturale a Forza Italia che come diceva il presidente Tagliani eh ha rappresentato e rappresenta sicuramente nell'ambito del centrodestra la forza eh più liberale che è ispirata diciamo alle idee eh più liberali. Eh noi riteniamo che eh in questo momento storico ci sia un grandissimo bisogno di liberalismo di ricette liberali. Il nostro paese attraverso un momento estremamente difficile per cui eh abbiamo voluto fornire il nostro supporto a Forza Italia durante questa campagna elettorale per fare in modo che eh il centrodestra possa eh naturalmente conseguire il miglior risultato possibile e nell'ambito del centrodestra vorremmo che appunto la forza più liberale all'interno del centrodestra ovvero sia Forza Italia raggiunga un risultato che le consenta di essere determinante nelle future politiche del governo. Ehm noi eh abbiamo intrapreso questo questo percorso insieme a Forza Italia ma naturalmente siamo appena all'inizio di quella che eh speriamo e crediamo che sia una eh lunga eh camminata insieme ehm per portare avanti le idee liberali e eh anche dopo naturalmente il venticinque di settembre eh proporremo una serie di iniziative eh congiunte con Forza Italia che consentano appunto di eh rimarcare queste idee fondamentali. Ehm siamo a disposizione per qualsiasi domanda e lascerei la parola anche al presidente Pasquale. Maurizio e poi farò con sempre. Eh intanto un grazie di cuore al presidente Antonio Tagliani e a Maurizio Gasparri. Se mi mettetemi anche eh un ringraziamento affettoso al presidente Berlusconi a cui la nostra comunità eh liberale del paese deve deve tanto eh che negli anni ha tenuto alta questa bandiera e ha tutelato quei valori che oggi troviamo trascritti nel documento che eh andremo a sottoscrivere. Eh come già evidenziato prima Roberto eh noi vogliamo fare uno spalla spalla con Forza Italia da qui in avanti al di là delle scadenze elettorali eh prossime e e future come ad esempio le prossime scadenze regionali perché c'è la consapevolezza che nel nostro paese ma anche a livello internazionale serve un baluardo di libertà e alcuni valori che hanno stati dati per scontati come eh durante la fase di pandemia o ad esempio eh causa della guerra in Ucraina vediamo che invece non devono essere dati per scontato e noi siamo qui a fianco appunto di questa forza liberale che è Forza Italia per sostenerla per portare avanti delle battaglie ma soprattutto per inaugurare quello che sarà una prossima iniziativa che anticipa prima Roberto del centenario che sarà l'otto ottobre che vorrà essere diciamo un un inno alla libertà e un un'occasione per raccogliere intorno a un tavolo i liberali eh dico con con le diverse sensibilità ma con un messaggio netto eh a sinistra i liberali tendenzialmente non ci sono oggi assistiamo a una serie di maquillage a una serie di bref eh chi è stato letto nelle fila del PD tendenzialmente è difficile che possa definirsi liberale per i parametri autentici che noi siamo abituati diciamo a leggere eh il concetto di libertà e ringrazio nuovamente e grazie di cuore non so se Paolo Guzzanti e Maurizio vogliono dire due parole sono ovviamente prima Paolo Guzzanti che è il nostro testimone alle poi Maurizio così conclude grazie ringrazio tutto all'amico Antonio Tagliani che ha avuto parole così gentili ma è vero noi facciamo parte insieme di quella anima liberale della del centrodestra che oggi purtroppo i numeri dicono i fatti dicono si trova in difficoltà perché gli elettori non hanno ben chiaro di fronte che cosa sia la scelta liberale il centrodestra senza un'anima liberale prevalente e non gregaria e minoritaria come se fosse una decorazione non ha l'anima e la forza politica per affrontare le scelte che oggi sono terrificanti lo vediamo dalla situazione prima di tutto internazionale poi per tutto quello che riguarda l'energia quando si scriverà la storia di questi anni e di questo anno in futuro il duemilaventidue sarà ricordato come un anno di svolta mondiale come adesso non voglio fare confronti ma forse così è stato gli anni trentotto trentanove Dio non voglia arrivi una terza guerra mondiale ma non abbiamo nessuna certezza neanche in questo senso i valori della libertà sono diventati piatti la libertà è diventata una lapide buona per le piazze e per metterla sugli slogan ma si è persa si è perso il valore eroico di questa parola che consiste nell'essere intransigenti di fronte a tutte le forme di liberalismo mentre invece oggi mi sembra che l'illiberalismo sia prevalente un divago e viaggi fluttuando da destra a sinistra siedono personaggi che si dichiarano di volta in volta liberali liberali sono come dicono in spagnolo todos liberales come todos caballeros allora io ho accettato con grande entusiasmo questo invito e ringrazio il segretario il presidente e tutti voi dopo avere militato nel partito liberale di cui sono stato per qualche tempo nella vecchia forma vice segretario e presidente della dell'assemblea ma queste sono cose puramente formali io credo che questo partito liberale così come è stato configurato in questo devo dire ringrazio non a nome mio a nome proprio dei liberali italiani grazie per gli amici che sono riusciti a riportare la bandiera caduta nella polvere perché quello che accade lo sapete accade che un giorno un'operazione che si chiamava clean hands nata non in italia e che doveva far fuori tutti i partiti che hanno formato la prima repubblica per accogliere finalmente le forze nuove e fresche del partito dell'ex partito comunista decapitò il paese di tutte le sue risorse liberali che erano quelle dei dei partiti che hanno fatto l'Italia repubblicana e da quel momento ci siamo trovati in una situazione in cui i valori liberali sono stati dispersi e adesso questa grande occasione di riunirli e farli diventare una forza politica non va assolutamente mancata quindi io da parte mia esprimo più grande gratitudine esprimo la mia gratitudine per questa opportunità ovviamente sarò disponibile per qualsiasi beh garante adesso sei molto gentile comunque è un lavoro grosso importante io ci sto e spero che ci sia sempre più gli italiani che sanno di essere liberali e di destra nel senso che non vogliono avere a che fare con i vecchi comunismi comunque truccati o con i populismi e che sono sempre stati la maggioranza di questo paese e che però sono dispersi sono in montagna hanno lasciato hanno abbandonato le le posizioni si sono scoraggiati che si tratta di ridare coraggio a questa parte dell'italia e io di mestiere di mestiere faccio parlo e scrivo se poterò parlare e scrivere dentro questo partito grazie ancora ma io ringrazio Roberto Sorcinelli e Francesco Pascuali ovviamente anche Paolo Guzzanti che non ha bisogno di presentazioni per quello che esprime nel dibattito politico culturale storico anche per certi versi ma anche nella quotidianità e l'incontro è nato dalla collaborazione che c'era già stata su Roma con Francesco Pascuali poi il partito liberale con la segreteria con la direzione di Roberto Sorcinelli ha ritrovato uno slancio per ricomporre un dialogo nella sua autonomia nella sua libertà con chi può condividere un percorso oggi l'Italia ha bisogno di un'area liberale moderata che con realismo affronti i problemi interni e internazionali la cui drammaticità e la cui rilevanza non ho bisogno di illustrare e quindi serve un riequilibrio serve una saggezza che anche la storia liberale offre al paese prima Antonio ha ricordato alcune figure alcuni personaggi anche di una fase recente e contemporanea poi credo che il partito liberale sarà impegnato anche nelle celebrazioni del suo centenario e saranno anche quelle da ottobre in poi occasioni di riproposizione di valori culturali che sono fondamentali perché poi alla fine in un momento così difficile concludo vale sempre quel principio eh di Einaudi la ricchezza prima di distribuirla bisogna crearla e quindi i valori dell'impresa i valori del lavoro sono valori fondamentali e questo è un principio che poi anche Berlusconi e Forza Italia hanno incarnato rappresentato e che ripropongono anche in questo momento così difficile per l'economia mondiale domande non vedo domande allora passiamo alla firma dell'accordo tra Forza Italia e il Partito Liberale non so se il segretario vuole dire una parola prima di firmare molto volentieri eh semplicemente per concludere con un appello al voto dei liberali è un momento molto importante questo per il paese come diceva anche Paolo eh tutti oggi si dicono liberali però poi propongono ricette socialiste noi pensiamo che la casa dei liberali si debba costruire qui si debba costruire insieme tra il Partito Liberale Italiano e Forza Italia quindi noi facciamo un appello a tutti i liberali veri affinché in queste elezioni politiche votino per Forza Italia e per il centro-destra grazie passiamo alla firma possiamo spessare no 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 grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti.